E' dal ping pong di Gloria Piedimonte al tennis tavolo giocato da campioni. I campioni in questo momento impegnati sono alla sinistra per chi guarda il teleschermo Stefano Bosi di Firenze, numero uno nelle classifiche. E alla destra per chi guarda il teleschermo Massimo Costantini di Senigallia, numero due della classifica e campione d'Italia in carica. E' una dimostrazione di quanto il tennis tavolo sia arrivato come livello in Italia e direi che è il caso di seguirli in silenzio per non disturbare questa esibizione. Grazie. Ed è su questo colpo eccezionale che ringraziamo Stefano Bosi e Massimo Costantini che ci hanno dato questa eccezionale dimostrazione di abilità sul tennis tavolo. Ma in questo posto, grazie ancora Stefano Bosi e Massimo Costantini.